L'Arcivescovo ha letto Monsignor Francesco Lomanto sceglie il suo stemma episcopale. Santificati in veritate, consacrati nella verità, tratto da Giovanni 17-19. L'Arcivescovo ha letto Monsignor Francesco Lomanto ha scelto un verso della preghiera sacerdotale di Gesù per il suo motto episcopale. Per loro io consacro me stesso affinché essi siano consacrati nella verità e ha ufficializzato anche il suo stemma. Siamo chiamati a santificarci. Significa vivere la presenza di Dio perché la santità non è imitare Dio ma far sì che Dio viva dentro di me, ha spiegato Monsignor Francesco Lomanto. Sulla base della tradizione araldica ecclesiastica lo stemma di un arcivescovo è composto da uno scudo a forma di calice dove vengono collegati i vari simboli. Una croce, un cappello prelatizio di colore verde, un pallio bianco con crocette nere, un cartiglio inferiore con il motto episcopale. Maria è il modello di vita che ha creduto all'amore di Dio e a quello che Dio poteva realizzare nella sua vita. La Madonna delle lacrime ricorda in maniera particolare la presenza consolatrice nella nostra vita e poi ho voluto esprimere le mie radici culturali, il mio legame con Mossomeli, ha aggiunto Monsignor Lomanto. Lo scudo è ripartito in quarti di rosso e di blu e contiene nel primo quarto una bilancia, una spada e uno scudo, rappresentano l'arcangelo San Michele, patrono della chiesa nissena e indicano l'appartenenza alla diocese di origine e l'affidamento al suo patocinio. Nella seconda il monogramma mariano A più M, un pastorale e una palma. Il monogramma evidenzia la devozione al cuore immacolato di Maria nel santuario di Siracusa, segno e memoria e imperitura dell'inesauribile dono delle lacrime, mentre il pastorale richiama il vescovo San Marciano e la palma raffigura Santa Lucia, martire, entrambi padrone dell'arcidiocese. Nel terzo quarto una stella a otto punte, la sommità di un castello. La stella si riferisce alla Madonna, Maris Stella, e manifesta la pietà mariana del popolo di Mussomeli. Il castello Manfredoni che esprime il rapporto con le radici storiche e l'identità culturale del paese nativo. Infine nel quarto un'aquila di nero ad alle spiegate con aureola e lingua rossa che tiene un libro rosso con pagine dorate. L'aquila con l'aureola che si eleva con il libro è il simbolo di San Giovanni Evangelista, al quale è dedicata la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, in cui Monsignor Lomanto ha insegnato per tanti anni ed è stato preside. Egualmente ravvive il messaggio che Cristo, Alfa e Omega rivela alla pienezza della verità.